Eccoci qua di nuovo in onda con Impregniamo, un saluto da Nicola Pozzati e Nicola Guicciardi. Allora abbiamo appena intervistato Francesco Giubilechi, io ringrazio, una bella intervista, fa piacere vedere che ci siano dei giovani che nonostante tutte le difficoltà che ci possono essere credono nel futuro, ci credono, investono e fanno delle cose molto belle, molto interessanti. Noi siamo qui con Giovanni Gaspere Righi, il coordinatore del Peppino Festival, io Giovanni ti ringrazio, noi ci siamo sentiti circa una settimana fa, ci avete chiesto se c'è la possibilità di una collaborazione per dare una mano a questo festival, noi ben volentieri perché si ricorda una persona che ha fatto tanto e soprattutto ha fatto delle cose importanti che è Peppino Impastato. Esatto, ha fatto tantissimo, ha fatto tanto da vivo e continua a farlo anche adesso che è morto quasi da 37 anni, è morto nel 78, il 9 maggio del 78 e mi piaceva ricollegarci velocemente a Nicolò, scusate a Francesco, il nostro editore che era in collegamento con noi prima e in effetti il discorso che facevi prima sulla cultura credo che sia uno degli aspetti fondamentali per sconfiggere la malavita organizzata, la mafia e tutto annesse e connesse. Infatti è stato grazie poi al film I Cento Passi che la storia di Peppino è uscita veramente forte e ha creato nell'immaginario collettivo dei ragazzi il simbolo della lotta alla mafia tra i giovani in pratica, perché prima avevamo Falcone e Borsellino ma erano figure lontanissime dai giovani liceali, universitari, attraverso la cultura appunto di qualità come un film di Marco Tullio Giordano insomma si è creato questa nuova figura, questo nuovo mito forse, che ha creato questa nuova persona che aiuta ai giovani a ricordare la lotta alla mafia in pratica. Ecco un argomento importante Nicolò volevi dire? Sì, mi ricollego però all'evento proprio in sé, il Peppino Festival, da quanto tempo si tiene, dove si terrà, insomma parliamone un po'. Allora il Peppino Festival è la quinta edizione quest'anno, abbiamo iniziato nel 2011 a fare queste due giornate, inizialmente erano due giornate quest'anno e l'anno scorso ne abbiamo fatte tre, perché non riusciamo più a contenere tutte le attività che abbiamo nel festival in soli due giorni. Che sono tante, si vede il programma qua che ho davanti. Il programma è abbastanza fitto anche quest'anno, abbiamo cercato di renderlo il più completo possibile. È un festival culturale, ci teniamo a questa specificità, nel senso cultura dal punto di vista di musica, quindi ci sono tantissimi ospiti musicali, di giovani band più blasonate e poi abbiamo qualche presentazione di libri, approfondimenti, cultura, noi la intendiamo anche come cucina, quindi lo stand gastronomico con piatti siciliani e piatti più tipicamente emigliani come le crescentine che non possono mancare. Giusto mix. Tra l'altro il perfetto tema con l'Expo. Eh assolutamente, insomma, l'Expo è uno di quei temi un po' diciamo a doppio taglio. Sì, il tema culturale del cibo, poi dopo ci sono altre anche sfaccettature che andrebbero approfondite. Lo facciamo, non ho detto dove lo facciamo, lo facciamo a San Giovanni in Persiceto. Il cuore del Peppino Festival è il Circolo Arci a Catà, che si può trovare dove troverete, dove trova la sua sede principale. Quest'anno poi invece il festival verrà svolto in alcune manifestazioni, alcuni eventi del festival, avverranno fuori dal circolo e saranno in centro al paese, a San Giovanni in Persiceto. Abbiamo fatto questo per evolvere e cercare di coinvolgere la maggior parte della popolazione, chiaramente. Noi facciamo questo festival per due obiettivi principali. Ecco, esatto, quali sono gli obiettivi che vi date con questa rassega? L'obiettivo principale è quello di creare consapevolezza nella cittadinanza, quindi dire a tutti, ragazzi c'è la mafia, se tutti i giorni ci impegniamo riusciamo a sconfiggerla, abbiamo fiducia e facciamola. L'altro motivo per cui lo facciamo è raccolta fondi, chiaramente perché noi chiediamo a tutti di darci una mano per portare gente al festival, chiediamo a chi viene a suonare di venire comunque a rimborso speso, comunque con anche gli ospiti più importanti che ci danno una mano, capiscono l'importanza del progetto e ci stanno aiutando tantissimo in tutti questi anni e l'obiettivo è anche appunto creare e dare fondi, raccoglierli per destinare questi soldi al presidio di Libera di Terre d'Acqua dei nostri comuni San Giovanni e i comuni Limitrofi che destinano la maggior parte dei fondi per far andare i ragazzi dei licei, dei superiori del nostro paese nei campi di lavoro estivi organizzati da Libera. Tra l'altro dall'anno scorso e anche quest'anno si recheranno proprio a Cinisi, nelle terre appunto di origine di Peppino Impastato. A Cinisi, esatto, è il comune dove nacque e dove purtroppo morì. E dove purtroppo morì e dove si candidò come consigliere comunale, tra l'altro. Ecco dove venne eletto da purtroppo già morto, Peppino Impastato. E poi per avere un po' di fondi per durante l'anno continuare a fare iniziative, perché comunque il Peppino Festival è la punta di diamante, diciamo, di un percorso che noi manteniamo via come circolo Arci e come presidio di Libera lungo tutto l'anno in cui facciamo un po' di iniziative, convegni magari un po' più piccoli e poi creiamo l'evento in maniera da avere massima visibilità appunto in occasione del 9 maggio, quindi piena primavera, si spera che ci sia il bel tempo e all'aperto creiamo questa festa per tutti, dai giovani all'età dei nostri genitori, diciamo, ma è un festival abbastanza trasversale come pubblico. Chiaramente cerchiamo di incentivare la presenza dei giovani che sono quelli su cui vogliamo investire più di tutto. Ecco, tra l'altro ribadiamo una cosa, nel senso che piatti tipici siciliani, cinisi, eccetera, va bene, tutto bene, non stiamo parlando di un problema della Sicilia però, ricordiamolo, perché a volte si ha la percezione sempre sbagliata che la mafia sia un problema, nel migliore dei casi meridionale, nel peggiore è proprio una cosa legata a Palermo, Corleone, poche limitrofe, quando in realtà noi sappiamo che forse oggi è più un problema nostro perché la mafia va dove sono i soldi e quindi qua c'è e c'è in maniera anche più subdola e meno palese perché proprio sono manager, sono persone che vivono anche nel mondo più, diciamo... Più della politica, si muove tra le cooperative, sì, purtroppo... L'inchiesta Emilia poi è... Esatto, è recentissimo agli sviluppi di queste inchieste che fanno veramente molta paura, insomma. Noi l'abbiamo sempre tenuto alto l'allarme in questi anni in cui abbiamo fatto il festival su questo problema. All'interno del festival ci saranno anche incontri di approfondimento, non è solo divertimento il Peppino Festival. Vogliamo che rimanga così, quindi una cosa divertente ma che ti lasci anche delle tracce importanti, della curiosità tra chi passa per poi poter andare ad approfondire più tardi in altri momenti. Saranno con noi un bel po' di ospiti, soprattutto domenica a pomeriggio avremo Antonio Mumolo che è consigliere regionale quindi ha fatto la legge del 2011, la numero 3 del 2011, che è la legge regionale dell'Emilia-Romagna sul contrasto alle infiltrazioni mafiose, che è stata presa come buono esempio, come esempio di buona pratica dall'ONU perché comunque l'infiltrazione mafiosa purtroppo nei nostri territori è viva e va sconfitta, insomma. Quindi andremo con lui a capire alcune cose, ma non ci sarà solo lui, ci sarà Daniele Borghi che è il coordinatore regionale di Libera, ci sarà Gian Guido Nobili che è quello che per la regione crea i report, i numeri, insomma ci darà un quadro complessivo del fenomeno mafioso per quanto riguarda i beni confiscati, le attività, quali sono i clan, in quali province si distribuiscono, insomma cercheremo di dare un quadro più completo possibile e far incontrare appunto i vari soggetti che sono il legislatore, le associazioni, l'amministratore locale, farli incontrare tutti assieme in maniera che si scambiano queste informazioni, poi questo lavoro lo faremo in due ore al festival ma facciamo un esempio di quello che dovrebbero fare e quello che per fortuna molti soggetti fanno durante tutto l'anno, daremo un esempio di questa cosa insomma al nostro festival e una ecco una delle cose prima parlavano di cultura ricordiamo la figura ad esempio di Rocco Chinnici che fu il primo magistrato ad andare all'interno delle scuole e fu uno appunto diciamo un precursore per questo aspetto molto importante che però richiese diverso tempo prima di diventare diciamo considerato come avrebbe dovuto ecco diciamo una domanda che mi viene da farti sai Peppino Impastato uno degli aspetti interessanti, noi ne parlammo al Cine Forum organizzato alcuni cavezzi proprio sull'anniversario della creazione della radio in cui si videro proprio i cento passi Peppino Impastato faceva radio, faceva radio e faceva denuncia sociale, io ti dico la verità lo diciamo anche in altre occasioni per noi è molto facile, questo lo vorrei ribadire in maniera molto attenta e seria e vorrei che non si perdesse questo passaggio per noi è molto facile qui in radio oggi dire la mafia è una brutta cosa, la mafia è una cosa sbagliata ecco perché tutto sommato è facile diciamo che è facile per noi, siamo sfermati, siamo qua dentro esatto non ci succede niente, farlo in quel contesto invece era qualcosa di fortemente anche in quel periodo in quel periodo ma fortemente antisociale, cioè lui andava proprio a parlare di persone che poi vedeva tutti i giorni lui tra l'altro faceva parte di una famiglia mafiosa, cioè suo padre non era un boss, era solamente magari un picciotto però era una famiglia mafiosa, è stato grazie alla figura importantissima di sua madre Felice Impastato che è riuscita a tenere fin da piccoli i suoi figli Giovanni e Peppino Giovanni tra l'altro che è ancora vivo per fortuna e tiene altissima la memoria di suo fratello grazie alla figura della madre di Felicia è riuscita a schermare inizialmente questo mondo rispetto ai propri figli e da lì è nato in Peppino l'esigenza di combatterla nonostante fosse dentro, ce l'avesse proprio in casa insomma e ricollegandomi un attimo a quello che dicevi di Rocco Chinnici tra l'altro lui è stato proprio il primo magistrato che ha cercato di andare a scavare davvero a fondo la verità sulla morte di Peppino Impastato, è stato il primo a riaprire il caso che era stato frettolosamente chiuso dai carabinieri e facendolo passare tra l'altro Peppino Impastato ricordiamo che morì in concomitanza con l'uccisione di Aldo More esatto, passò in secondo piano subito e tra l'altro i carabinieri deviarono le indagini adesso i carabinieri, non do la colpa ai carabinieri chiaramente o a qualcuno in particolare però insomma le indagini furono chiuse velocemente facendolo passare per un terrorista che voleva far saltare in aria la ferrovia insomma creare dei boicottaggi e cose del genere Rocco Chinnici invece riandò a riprendere fuori il fascicolo e con Felicia insomma collaborarono poi Rocco Chinnici purtroppo venne ucciso prematuramente non vide la fine delle indagini che furono lunghe più di vent'anni per ristabilire la verità su Peppino comunque è stato anche grazie a lui che c'è stato la diciamo anche legalmente anche nella verità giuridica Peppino è tornato a essere ucciso adesso andiamo a sentirci una canzone poi torniamo in diretta per parlare del Peppino Festival eccoci qua di nuovo in onda con Imprendiamo assieme a Giovanni con cui stiamo parlando appunto del coordinatore del Peppino Festival io sono in partenza nel senso che devo assolutamente mi scuso scappare quindi vi lascerò nelle mani del nostro Nicola Guicciardi ma noi ti aspettiamo al Peppino Festival 8, 9, 10 maggio assolutamente non me lo perderò abbiamo sentito i 100 passi che parla proprio di Peppino Impastato io ti ringrazio ti voglio solo fare una domanda prima di andare via ecco quale credi dal vostro punto di vista dal vostro osservatorio anche sarebbe un'azione importante pratica e concreta da fare subito sul nostro territorio per contrastare questo diragante infiltrarsi di realtà mafiosa all'interno del nostro tessuto sociale allora guarda io seguo abbastanza vicino i lavori di di Antonio Mumolo come vi avevo accennato prima che lo conosco bene fortunatamente è una persona magnifica e per fortuna l'abbiamo in assemblea legislativa in Emilia Romagna io credo che l'azione adesso di questa appena eletta assemblea legislativa sarà fondamentale nei prossimi 4-5 anni ma dovrà intervenire subito per creare, per aggiornare le leggi già buone che ci sono a livello regionale ma sicuramente dovranno dare un incentivo maggiore soprattutto per contrastare la parte tra di mafia che dilaga tra il commercio che anche se non sembra il racket, il pizzo, queste cose purtroppo è diffuso anche qui da noi sì, cioè è un controllo diverso quello che hanno le criminalità organizzate però purtroppo anche realtà che sembrano immacolate purtroppo nascondono qualcosa sì, abbiamo poi tra l'altro degli esempi anche a Reggio i ragazzi della Web TV di Reggio hanno fatto delle inchieste bellissime scoprendo purtroppo dei casi che hanno dato seguito appunto delle inchieste pericolose insomma per i mafiosi per fortuna allora Nicola Pozzatti mi passa la staffetta adesso conduco io questo modello di imprendiamo ricordiamo comunque per gli ascoltatori che chi ci vuole seguire può scriverci per sms e whatsapp al 340-088-9313 oppure seguirci sulla pagina facebook web radio 5.9 ritorniamo ti chiedo ci parlavi prima durante lo stacco musicale di un promo molto particolare sul Peppino Festival sì da quest'anno abbiamo fatto abbiamo girato tra di noi un promo un video che cerca insomma vorrebbe essere virale insomma queste cose molto social media che abbiamo condiviso dalla nostra pagina del Peppino Festival e forse lo potreste trovare anche dalla pagina di web radio 5.9 lo pubblicheremo assicuro ottimo e speriamo che possa essere gradevole alla vostra di vostro gradimento ma il messaggio che mandiamo in questo messaggio in questo video è appunto il problema che probabilmente i mafiosi sono anche sul nostro territorio è ambientato proprio in Emilia Romagna a Bologna e vi incuriosisco dicendo che sarà una partita di monopoli un po' particolare dove magari le vendite delle centrali elettriche non saranno solo lì sulla carta sul tabellone ma potrebbe essere qualcosa di un po' più reale insomma allora parliamo adesso ritorniamo sul Peppino Festival ancora nel particolare sabato 9 stra Peppino marcia per ricordare Peppino Impastato ce ne parli un po' allora il il giorno 9 maggio indipendentemente dal giorno della settimana in cui noi ci rechiamo in via Peppino Impastato nel comune di San Giovanni in Persiceto che si trova via Peppino Impastato si trova in località a Budrie quindi poco fuori dal paese c'è questo nuovo quartiere con tutte le vie dedicate alle vittime di mafia quindi abbiamo Falcone abbiamo Borsellino abbiamo Chinnici e c'è anche via Peppino Impastato in via Peppino Impastato il 9 maggio noi deponiamo una corona di garofani per ricordare Peppino e poi da lì partiamo e facciamo una camminata per tutti quindi tutti possono partecipare sono invitati insomma a rendere le fila del corteo sempre più numerose che chiaramente e faremo una passeggiata di circa 8 km che equivalgono non a 100 passi ma abbiamo fatto due conti sono circa 10.000 passi insomma e arriveremo fino al circolo Arce a Catà dura un paio d'ora e vi invitiamo chiaramente se volete fare una passeggiata in mezzo alla campagna bolognese a venire con noi è abbastanza divertente non è faticoso per niente e quando arriviamo al circolo poi inizierà il festival nel vero senso della farola tra l'altro ricordiamo insomma 9 maggio anniversario di morte giusto di Peppino Impastato nel 78 esatto nel 78 37 37 37 anno allora abbiamo parlato un attimo degli ospiti istituzionali parlando di Mumolo consigliere Mumolo ci sarà anche Massimo Mezzetti assessore alla cultura e legalità della regione Emilia Romagna per quanto riguarda invece l'associazionismo la società civile chi sono gli ospiti più importanti presenti al Peppino Festival ma noi abbiamo cercato di coinvolgere veramente più persone possibili in maniera che sia il pubblico che le associazioni che verranno al festival si possono contaminare si possono conoscere si possono mischiare perché solo da da queste attività arriva poi arrivano i frutti migliori no dalle collaborazioni quella tipo quella che abbiamo avuto quest'anno con voi che mi sembra bellissima avremo ad esempio una mostra che era stata che è stata in piedi fino a pochi giorni fa presso l'urban center di Bologna la sposteremo e la installeremo nel loggione del comune di San Giovanni in Percicetto quindi sarà visibile a tutta la cittadinanza e verrà ad inaugurarla Stefania Pellegrini Stefania Pellegrini spero che sia un nome che vi dite ma forse l'ho già sentito da qualche parte lei è una dottoressa professoressa di giurisprudenza dell'università di Bologna che ha creato un master specializzato in riutilizzo e gestione dei beni confiscati alla mafia e faremo questa intitolata a più la torre le dico tutte le informazioni con calma e questa mostra che si chiama Ripresi fotografa ed ha un quadro anche con dei pannelli illustrati un po' più tecnici diciamo con dei grafici insomma ci fa capire qual è la situazione dei beni confiscati alla mafia in Emilia Romagna rispetto anche alle altre regioni d'Italia e del nord Italia purtroppo vi do questa notizia l'Emilia Romagna è la regione del nord Italia con più beni confiscati alla mafia e la sesta in Italia ecco andiamo questo era uno poi se volete vedere tutto il programma vi invito appunto a digitare su internet www.peppinofestival.it e il primo link che trovate è l'evento di Facebook se volete partecipare condividalo ci aiutate a diffondere la cosa e subito sotto c'è il link al programma che ci mettete un attimo a leggerlo perché abbiamo creato un bel po' di appuntamenti e speriamo che qualcosa vi interessi insomma allora adesso noi andiamo con l'ultimo stacco musicale poi rientriamo per i saluti con Giovanni Gasparerighi coordinatore del Peppino Festival e rieccoci qui nella puntata di lunedì di Imprendiamo insieme a Giovanni Gasparerighi ricordiamo coordinatore del Peppino Festival che si terrà San Giovanni in Persiceto 8-9-10 maggio 2015 e non solo e non solo ci sono anche eventi c'è qualche evento off in effetti esatto e torniamo ti chiedo un po' chi ha patrocinato questo evento chi ha contribuito insomma chi ha organizzato il tutto allora il festival è organizzato principalmente e quasi nella sua totalità dal Circo Arci a Catà di cui faccio parte e del Presidio Libera Terre d'Acqua di cui faccio parte ovviamente sono due cose che vanno sempre a braccetto l'Arci è libera fortunatamente assieme a noi hanno lavorato quest'anno moltissimo il comune di San Giovanni in Persiceto che ci ha dato una grande disponibilità anche di spazi per appunto organizzare eventi al di fuori della sede del circolo ma quindi andremo dentro la cittadinanza dentro la città a fare la nostra attività in più abbiamo ricevuto il patrocinio della regione Emilia Romagna dell'Unione di Terre d'Acqua che sono i comuni limitrofi a San Giovanni in pratica e della città metropolitana è stata una bella fatica a fare i patrocini perché comunque era il primo anno che ci presentavamo a queste istituzioni che sono veramente grandi complicate da gestire per questo ringrazio anche in radio Greta Gamberini che si è occupata di tutta questa parte e insomma è stata una bella soddisfazione quando arrivavano le lettere presso il circolo in cui la lettera firmata da Virginio Merola presidente della città metropolitana piuttosto che Bonaccini il neoeletto governatore dell'Emilia Romagna insomma sono piccole soddisfazioni ma che ti fanno sentire che le istituzioni ci sono e credono nei progetti insomma creati da noi giovani alla fine comunque il bello del nostro festival è che ce lo auto organizziamo in pratica assolutamente posso fare una domanda vai pure allora Ruben Giovannoni per chi non lo sapesse che mi sta coadiuvando alla rivoluzione al posto di Pozzati dopo la dipartita adesso che è andato via Pozzati saremo un po' più incasinati no assolutamente no e no più che altro la domanda è più una constatazione mi fa più piacere mi fa piacere perché avete cercato di è brutto da dire è brutto anche sentirlo dire però di istituzionalizzarvi nel senso di cercare i patrocini effettivamente perché forse non è che vi vi foste sentiti nel corso delle scorse edizioni troppo di parte oppure schierati e poi vi siate voluti mettere a disposizione di tutte le parti politiche per dar più forza al vostro messaggio ma sì guarda il fatto di diventare istituzionali attraverso i patrocini è solo il primo passo in realtà perché poi insomma sappiamo che sul tema dell'antimafia le amministrazioni locali ex provinciali città metropolitanesi non saprei neanche come definirle regionali insomma le istituzioni investono e hanno piacere ovviamente credo che il nostro progetto potrà crescere ancora e andare avanti nei prossimi anni dico fino all'anno scorso noi dell'organizzazione forse non ci sentivamo ancora pronti per alzare la mano e andare dalle istituzioni dal sindaco dagli assessori e dirgli ragazzi noi facciamo ragazzi sì ragazzi noi facciamo questo festival avete voglia di investire su di noi nel senso abbiamo bisogno abbiamo avuto anche noi bisogno di qualche anno per capire strutturarci perché partire da zero con un'esperienza piccola comunque come un circolarci come il nostro avevamo bisogno di farci un po' le ossa capire come giravano le cose come strutturarle meglio come fare i volantini dalle cose più banali che uno quando inizia a fare un festival dice boh da cosa facciamo vabbè l'idea è carina poi ci sono 28.000 cose che uno deve fare con gli anni abbiamo un po' imparato a rodarci di vederci un po' i compiti cioè quello che va a cercare le pubbliche relazioni quello che segue un po' più la parte di comunicazione quello che segue più le band artistiche insomma chi monta le strutture poi bene o male ci aiutiamo in tutti i campi ci diamo una mano però dividersi i compiti e organizzare un piccolo evento come questo di tre giorni vi assicuro che porta via non dico che è un lavoro ma praticamente lo è insomma quindi prima di andare a dire alle istituzioni ragazzi noi vogliamo farlo anche l'anno prossimo investite e dateci ascolto volevamo anche noi avere un attimo di tranquillità di prospettiva come si può dire certo assolutamente sì allora infatti noi insomma non possiamo che apprezzare le istituzioni insomma che si mettono in campo per queste manifestazioni importantissime fa piacere insomma vedere che oltre al solito grigiore della politica ogni tanto qualcosa di positivo viene messo in luce noi siamo veramente in chiusura Giovanni io ti ringrazio per essere stato con noi in questa puntata di Imprendiamo vuoi ricordare qualcosa ancora? guarda al volo vi dico gli ospiti più importanti dal punto di vista musicale che ci faranno compagnia saranno Al3DB che è una band bolognese indie rock che sta andando fortissimo e prima di partire per il loro tour USA verranno a trovarci i Rumba de Bodas che sono un'altra band sempre bolognese ma in realtà quasi di natura sono nati europei loro e verrà Max Collini degli Off-Lug a Disco Pax e Yuka Reverberi dei Giardini di Miró che faranno delle letture con il loro spettacolo spartiti faranno delle letture anche degli inediti costruiti apposta per il nostro bottino festival e poi in più vorrei ricordare anche i Nuiu che hanno creato i Nuiu sono una band di world music rock music comunque abbastanza popolare tra Reggio e la Calabria tra Reggio Emilia e la Calabria sono un po' uno spazio tra Reggio Emilia e Reggio Calabria esatto diciamo così è bella lunga comunque sono stati i promotori di musica contro le mafie una raccolta hanno fatto un libro e un cd con tante band e allora noi vogliamo di solito quando riescono a passare al nostro festival siamo sempre contenti di ospitarli assolutamente allora noi adesso siamo davvero in chiusura ricordiamo Peppino Festival 8, 9, 10 maggio con eventi off il mercoledì 6 maggio San Giovanni in Persiceto oscillerà tra il circolo RCHT e parte della cittadina li potete trovare sul sito internet www.peppinofestival.it potete scrivere anche a peppinofestival.gmail.com per ulteriori informazioni grazie mille noi ringraziamo Giovanni Gaspar e Righi ricordiamo che alle 7 pian piano ci arriviamo ci sarà Felix con Joe Guaitoli e io perché continuerò a stare con voi la maratona maratona radiofonica neanche Mentana direi neanche Mentana col Presidente della Repubblica fa queste cose noi ci salutiamo ci vediamo con Imprendiamo a lunedì prossimo complimenti ciao complimenti ciao complimenti ciao complimenti ciao